Saggese, premium partner Sciuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.P.A. Serramentisti per vocazione dal 1982. In arrivo grossi cambiamenti riguardo alla fruibilità della villa comunale intitolata ai giudici Falcone e Borsellino a Cava dei Tirreni. A causa di alcuni reiterati episodi di inciviltà verificatisi nelle ultime settimane, l'assessore alla polizia locale Germano Baldi ha infatti dato disposizione di chiudere la struttura ogni sera alle ore 21. Ascoltiamolo dalla sua viva voce. Sono stato chiamato, compulsato dai cittadini perché non se ne può più. Noi avevamo mantenuto la villa aperta specialmente per questo caldo a foso durante l'estate, quindi stiamo parlando della villa centrale, la villa qui a Viavecrispi. Ma i ragazzi sono indisciplinati, quindi bevono, gridano, spaccano bottiglie di vetro, almeno questo ci riferiscono i cittadini che abitano nella zona. Quindi a questo punto mi sono visto costretto a dare disposizione di chiudere la villa comunale alle 9 di sera. Questo lo voglio dire ai cittadini che noi perdiamo un uso pubblico, perdiamo, diciamo così, di poter stare in una villa comunale nel verde perché per l'inciviltà di alcuni ragazzi. E questo si sta vivendo quotidianamente un po' dappertutto. Mi hanno segnalato la villa che sta a Viave Marconi vicino al parco Beethoven dove c'è l'andazzo che portano i cani, chiudono il cancello, lasciano liberi i cani. E quindi tutte le persone anziane che hanno paura oppure portano i bambini, non portano i bambini perché ci stanno queste persone che liberano i cani, che poi sono cani grossi, di grossa taglia, chiudono il cancello e la rifanno scorazzare. Allora, fra poco ci vedremo costretti a chiudere anche quella villa perché non è possibile immaginare che possiamo avere un vigile urbano oppure le forze di polizia dietro ogni cittadino, dietro ogni pilastro del portico e quant'altro. Quindi vedo che sta regnando un modus vivendi, specialmente questi ragazzi. Io faccio appello alle famiglie di controllare di più i propri figli perché poi tutto viene dall'educazione, dall'educazione e dall'educazione.